Benvenuti di nuovo, buongiorno a tutti e buona vigilia da Grangale in Cucina ed ecco il nostro bellissimo, dolcissimo, dolce tiramisù al caffè e al cioccolato con pan di spagna, pavesini al cioccolato, crema al mascarpone con vaniglia e le nostre decorazioni con le stelle di Natale cadenti. Io con questo retrogrusto, retro, cioccolato, l'ho messo pistacchio fondente e che dire, è una bontà assoluta. Io vi auguro veramente una bellissima vigilia e ci vediamo dopo con la prossima ricetta. Aprite la campanella e non ve ne pentirete per le feste natalizie. Noi siamo su Instagram, Facebook, Twitter, Youtube e poi faremo LinkedIn e all'anno nuovo praticamente faremo il nostro blog di cucina, Grangale a Cucina, VIP. Metteteci tanti like, noi tutti i siti che siamo, il gruppo di cucina e che dire, ogni bimbo piace la cioccolata. Ciao a fra poco, ciao a tutti!